Come trattare e curare cancro della vescica. Il carcinoma della vescica è una malattia in cui maligne, cancro, cellule formano nei tessuti della vescica. Il fumo può influenzare il rischio di cancro alla vescica. Segni e sintomi di cancro alla vescica includono sangue nelle urine e dolore durante la minzione. I test che esaminano le urine della vescica sono utilizzati per aiutare a rilevare, trovare, e diagnosticare il cancro della vescica. Alcuni fattori influenzano la prognosi, probabilità di guarigione, e le opzioni di trattamento. Il carcinoma della vescica è una malattia in cui maligne, cancro, cellule formano nei tessuti della vescica. La vescica è un organo cavo nella parte inferiore dell'addome. Si forma un palloncino e ha una parete muscolare che consente di ottenere maggiore o minore per memorizzare urine fatta dai reni. Ci sono due reni, uno su ciascun lato della spina dorsale, sopra la vita. Tubuli piccoli nel filtro dei reni e pulire il sangue. Prendono i prodotti di scarto e rendere l'urina. I passi urine di ciascun rena attraverso un lungo tubo chiamato uretere nella vescica. La vescica tiene l'urina finché non passa attraverso l'uretra e lascia il corpo. Ci sono tre tipi di cancro della vescica che iniziano nelle cellule del rivestimento della vescica. Questi tumori sono chiamati per il tipo di cellule che diventano maligne, cancro. Carcinoma a cellule di transizione, cancro che inizia nelle cellule e nello strato più interno di tessuto della vescica. Queste cellule sono in grado di allungare quando la vescica è piena e ridursi quando è svuotato. La maggior parte dei tumori della vescica inizia nelle cellule di transizione. Carcinoma a cellule transizionali può essere di basso grado o di alta qualità. Carcinoma a cellule transizionali basso grado ricorre spesso, ritorna, dopo il trattamento, ma raramente si diffonde nello strato muscolare della vescica o ad altre parti del corpo. Carcinoma a cellule transizionali ad alta resistenza ricorre spesso, ritorna, dopo il trattamento e spesso si diffonde nello strato muscolare della vescica, ad altre parti del corpo, e linfonodi. Quasi tutte le morti per cancro della vescica sono dovuti alla malattia di alto grado. Carcinoma a cellule squamose, il cancro che inizia nelle cellule squamose, che sono, le cellule piatte sottili che si possono formare nella vescica dopo l'infezione a lungo termine o irritazione. Adenocarcinoma, il cancro che inizia nelle cellule ghiandolari, secretorie, che si trovano nel rivestimento della vescica. Si tratta di un tipo molto raro di cancro alla vescica. Il fumo può influenzare il rischio di cancro alla vescica. I fattori di rischio per il cancro della vescica includono Utilizzando il tabacco, in particolare fumare sigarette. Avere una storia familiare di cancro alla vescica. Avendo alcuni cambiamenti nei geni che sono collegati al cancro della vescica. Essere esposti a vernici, coloranti, metalli, o di prodotti petroliferi sul posto di lavoro. Trattamento passato con radioterapia al bacino o con alcuni farmaci antitumorali. Prendendo aristolocchia funky, un'erba cinese. L'acqua potabile da un pozzo che ha livelli elevati di arsenico. Bere acqua che è stata trattata con cloro. Avere una storia di infezioni della vescica, tra cui le infezioni della vescica causate da schistosoma a hematobium. Utilizzando cateteri urinari per lungo tempo. Sintomi Il sangue nelle urine, un po' arrugginito di colore rosso acceso. Minzione frequente. Dolore durante la minzione. Mal di schiena lombare. I test che esaminano le urine della vescica sono utilizzati per aiutare a rilevare, trovare, e diagnosticare il cancro della vescica. Le seguenti prove e le procedure possono essere utilizzate. Esame fisico e la storia. Un esame del corpo per verificare segni generali di salute, compresa la verifica per i segni di malattia, come grumi o qualsiasi altra cosa che sembra insolito. Una storia di abitudini di salute del paziente e le malattie e trattamenti passati anche da adottare. Esame interno, un esame della vagina e o del retto. Gli inserti medico lubrificate, dita guantate nella vagina e o del retto di sentirsi per grumi. Analisi delle urine, un test per verificare il colore delle urine e del suo contenuto, come zuccheri, proteine, globuli rossi e globuli bianchi. La citologia urinaria, un test di laboratorio in cui un campione di urina viene controllato al microscopio per le cellule anormali. Cistoscopia, una procedura di guardare dentro la vescica e l'uretra per verificare la presenza di aree anomale. Un cistoscopio viene inserito attraverso l'uretra nella vescica. Un chistoscopio è uno strumento sottile, tubo come con una luce e una lente per la visualizzazione. Esso può anche avere uno strumento per rimuovere campioni di tessuto, che sono controllati al microscopio per i segni di cancro. Biopsia, la rimozione di cellule o tessuti in modo che possano essere visualizzati al microscopio da un patologo per verificare la presenza di segni di cancro. Una biopsia per il cancro della vescica di solito è fatto durante la cistoscopia. Può essere possibile rimuovere l'intero tumore durante la biopsia. Vescica trattamento del cancro. La vescica cura del cancro è personalizzato per includere le terapie più avanzate. Procedure chirurgiche e ricostruttive avanzate. Chirurgia robotica laparoscopica. Conformazionale 3D e imatradioterapia. L'immunoterapia, compresi bacillus calmette guerin, BCG. Le ultime opzioni di chemioterapia. Chemioterapia. La chemioterapia svolge un ruolo importante nel trattamento del cancro della vescica che si è diffuso, metastasi, all'infonodi, polmoni, fegato e altre parti del corpo. In questi pazienti, la chemioterapia è il trattamento di prima linea. Radioterapia. Anche se la chirurgia è il trattamento di prima linea per il cancro della vescica, la radioterapia ha un ruolo in alcuni pazienti. Immunoterapia. Bacillus calmette guerin, BCG, un organismo batterico usato per trattare la tubercolosi, è l'immunoterapia standard per il tumore superficiale della vescica. Terapia genetica. Il trattamento più efficace e meno invasiva mirata a specifici tipi di cancro. Questo approccio medicina personalizzata ci pone al di sopra e al di là maggior parte dei centri di cancro e ci permette di attaccare le cause specifiche di ciascun tumore per i migliori risultati. Grazie. Grazie. Grazie.